Chiudiamo con il Sifu Francesco della Scuola Italiana Difesa Personale e i suoi istruttori e con William, attore William, come ti sei trovato qui come testimonia di questa scuola di difesa personale? Guarda, un evento veramente spettacolare a dir poco perché è veramente eccezionale. La Fiera dell'Oriente. Devo dire che è veramente una scuola dove insegna molto e io voglio ringraziare tutte le persone che credono soprattutto in questo progetto, gli insegnanti. E diciamo, scusa se ti interrompo William, le scuole dove si trovano? Mi giro Roma-Cinecittà, Roma-San Giovanni, Frosinone, Ardea, Arriccia, Artena, Grottaferrata e Velletri. Insomma, Roma e provincia è coperta molto bene e anche Frosinone, quindi Roma-Centro con San Giovanni ad esempio e poi Cinecittà. Francesco, chiudiamo con un ultimo messaggio. Il messaggio è appunto questo, ringrazio tutti gli insegnanti che sono la mia famiglia, la mia famiglia marziale ma sono anche amici, persone carissime. Ringrazio loro per la fiducia che mi danno tutti i giorni e che mi sostengono e faremo un ottimo lavoro per quanto riguarda le arti marziali, la difesa personale e anche la sicurezza. Grazie a tutti.